In Salento si lavora allo sviluppo della mobilità sostenibile tramite la cooperazione della rete Svan che fa volare l'innovazione. Il progetto di cooperazione internazionale tra Grecia e Italia prevede la realizzazione di un sistema di trasporto basato sull'uso di idrovolanti e infrastrutture leggere. Gallipoli sempre di più è il centro del turismo internazionale. Gallipoli ha avuto questo finanziamento con un Interreg in un progetto che collega l'Italia alla Grecia. Verranno e sono state già realizzate in gran parte le infrastrutture per dei collegamenti con l'idrovolanti da Corfu alla Puglia, in particolare nei porti di Taranto e nella Marina di Nardò. Gallipoli invece sarà il fulcro di questo progetto, sarà il collegamento fra queste aree e attraverso anche l'info point che è stato creato quello croceristico dove tutti i croceristi e tutte le imbarcazioni anche di media e grande stazza possono attaccare Gallipoli e a quel punto può decidere anche di spostarsi grazie a questi idrovolanti. Questo progetto che ovviamente oggi è in via di evoluzione sta però attraendo grandi investitori internazionali e questo ci pone sempre di più al centro di un mercato turistico non solo nazionale ma appunto di grande respiro internazionale e perché no potrebbe anche essere una nuova fonte di sviluppo poi anche del commercio internazionale per l'appunto.